È scontro a distanza tra Regione e Nuova Fiera del Levante sul futuro dell'ospedale Covid realizzato negli ambienti fieristici di Bari. Se da un lato ci sono il Presidente della Regione Michele Emiliano e l'Assessore Regionale della Sanità Rocco Palese che vorrebbero usare quegli ambienti per l'assistenza sanitaria dei profughi ucraini con tamponi, vaccini, ma anche per le cure dei filiti di guerra, dall'altro c'è il Presidente della Nuova Fiera, Sandro Ambrosi, che ribadisce come per organizzare grandi eventi c'è bisogno di spazi e quei circa 20.000 metri quadri sono vitali per poter continuare a rilanciare la Fiera del Levante. Ma facciamo un passo indietro, il 31 marzo prossimo scadrà lo stato di emergenza in Italia legato alla pandemia da coronavirus e la struttura per le maxi emergenze costruita per far fronte alla carenza di posti letto in terapia intensiva e subintensiva e finita al centro di inchieste da parte della Procura dovrà essere smantellata perché rischierebbe di diventare urbanisticamente abusiva. All'orizzonte ci potrebbe essere una proroga della deroga derivante proprio dalla guerra in Ucraina perché ci sarebbero delle interlocuzioni in corso per sfruttare le strutture attrezzate per prestazioni sanitarie nel contesto pandemico anche per altre ragioni. Noi ci adegueremo alle decisioni che prenderanno le autorità e la politica, ha ribadito Ambrosi. Abbiamo sempre detto però che abbiamo bisogno di spazi coperti. Dei padiglioni attualmente occupati dall'ospedale possono fare quello che vogliono se riescono a compensare in altro modo e a farci avere gli spazi che ci servono per le nostre attività. Al momento il settore fieristico sta provando a ripartire con Enoli Expo, fiera dedicata al settore dell'olio e del vino. E ad aprile tornerà dopo 12 anni Expo Levante, il primo banco di prova verso le edizioni della campionaria 2022 che dovrebbe tenersi dal 10 al 18 settembre prossimo.